Dopo l'undicesima giornata del campionato di Serie A, le italiane si rituffano in Champions League. Il programma del martedì prevede gli impegni di Juventus ed Atalanta. I bianconeri di Allegri possono almeno sorridere in Europa, dove nel proprio girone sono a punteggio pieno. Di Bale e compagni affrontano all'Allianz di Torino i russi dello Zenit e chiudere aritmeticamente il discorso qualificazione. L'Atalanta ospita il Manchester United di Ronaldo, che all'andata ribaltò il doppio vantaggio dei Bergamaschi. I nerazzurri sono nelle condizioni di fare l'impresa, ma dovranno fare tesoro dell'esperienza negativa maturata l'Ultraiford.